Musica Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché è considerato tra i fondatori di una vera e propria associazione a delinquere l'albanese arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Alessandria dopo che da nove mesi aveva fatto perdere le proprie tracce si tratta di Clevis Ndoci, 25 anni, con un curriculum criminale di tutto rispetto protagonista di oltre 30 furti in abitazioni nelle province di Milano, Bergamo, Pavia e Brescia l'uomo accusato anche di ricettazioni, lesioni pluriaggravate e di tentato omicidio per aver tentato di investire un carabiniere ad un posto di blocco era stato condannato dal tribunale di Pavia a tre anni e quattro mesi di reclusione ottenuti però i domiciliari l'albanese aveva deciso di scontare la propria detenzione in un alloggio di Alessandria ma dopo pochi giorni era evaso i carabinieri del comando provinciale, la guida del tenente colonnello Giacomo Tessore da qualche tempo stanno monitorando un gruppo di albanesi sospettati di essere gli autori di una serie di furti nelle abitazioni comparando alcune fotografie hanno riconosciuto proprio Ndoci che è stato catturato in un alloggio di via del Ferraio a Spinetta Marengo al momento dell'arresto ha esibito un passaporto non suo per cui è stato anche denunciato per falsa attestazione di generalità Restiamo sempre in tema di cronaca perché un nigeriano di 27 anni regolare nel nostro paese e disoccupato è stato denunciato in stato di libertà per violenza privata. L'uomo ieri mattina ha minacciato una donna che stava parcheggiando in uno stallo del parcheggio di piazzale Berlinguer davanti all'ospedale di Alessandria La vittima che doveva far visita ad un amico ricoverato è stata avvicinata dal nigeriano il quale pretendeva che l'automobilista parcheggiasse in un altro stallo evidentemente per riscuotere il solito euro La donna ha subito avvisato la polizia e sul posto si è recata una pattuglia della squadra mobile che ha fermato il parcheggiatore abusivo accompagnandolo immediatamente in questura Ci spostiamo e parliamo della qualità dell'aria ad Alessandria Il capoluogo di provincia ha superato per 102 giorni nel 2017 il limite quotidiano di PM10 E' stato questo il secondo dato peggiore in Piemonte Alessandria solo dietro a Torino Negli altri capoluoghi di provincia, come riferiscono i dati dell'ARPA i valori sono tutti minori Sicuramente i cambiamenti climatici influiscono sugli sforamenti Nel 2017 si è registrato il dato minore di piovosità degli ultimi 15 anni Ma è anche la società che deve dare una risposta per cercare di arginare questo problema I punti cardine contro cui lottare sono L'uso delle automobili con combustibili inquinanti E quello delle biomasse utilizzate per i caminetti o altri sistemi di riscaldamento E poi ci sono gli abbruciamenti delle stoppie e dei terreni in autunno Che, come spiegano i responsabili ARPA, hanno fatto innalzare il livello delle concentrazioni Delle centinaia di giorni di superamento in Alessandria, hanno detto ancora dall'ARPA Il 10% è ascrivibile al contesto agricolo Ciò che è bruciato nel Pavese, nel Casalese e nel Vercellese E che magari ci sembra lontano a livello geografico Viaggia nell'aria molto velocemente per arrivare nel bacino orografico all'estrandino E qui poi stazionare E proprio a proposito dello stato di salute dell'aria che respiriamo Alessandra Della Ca è andata in uno dei laboratori ARPA Dove i tecnici sono impegnati nell'elaborazione di dati e statistiche su più comparti Sentiamo così l'intervista al dirigente vicario Alberto Maffiotti Analisi in corso al laboratorio ARPA Piemonte, sede di Alessandria Tecnici, professionisti a lavoro Dottor Maffiotti, il mondo ARPA non è solo aria e qualità dell'aria Ma è anche acqua, rifiuti, analisi su terreni, amianto Certo, tutti quelli che sono i campioni Tutti quelli che sono i vari comparti ambientali Vengono analizzati nel laboratorio di ARPA Sostanzialmente noi abbiamo un'attività in campo Che è quella di raccogliere dei campioni Quindi di determinare dei parametri analitici Riportarne in laboratorio Questa è una parte di questo laboratorio Che si occupa appunto di tutte le componenti dell'ambiente In particolare qua ad Alessandria ci occupiamo di suoli E anche di aria per le analisi anche per tutta la regione E questo ci serve per avere dei dati oggettivi Che ci servono poi per capire la condizione L'evoluzione dell'ambiente che stiamo misurando Che stiamo valutando Quindi non è il nostro lavoro Non è semplicemente quello di andare a osservare O verificare se i registri di carico e scarico sono corretti O se le normative ambientali vengono rispettate dal punto di vista formale Ma anche di ricerca e anche di analisi fattiva Ecco lei ha detto che si lavora chiaramente giorno dopo giorno Attraverso una serie di analisi che vengono fatte sul campo E poi portate qui in laboratorio Si lavora anche sulle emergenze Assolutamente Il campo delle emergenze è un campo che è sulle 24 ore Noi abbiamo dei tecnici disponibili con la strumentazione analitica Su tutte le 24 ore Che si ruota Che viene attivato dal 118 una volta Adesso attraverso il 112 Quindi veniamo attivati per emergenze che sono importanti Quindi abbiamo delle aziende a rischio di incidente rilevante In provincia di Alessandria Ma anche in provincia di Asti Perché questo laboratorio e questo dipartimento Comprende anche la provincia di Asti E poi abbiamo invece situazioni normali Dove magari i cittadini sentono degli odori Sentono dei disagi E quindi ci chiamano anche fuori dall'area di lavoro Durante l'area di lavoro queste attività vengono svolte Con dei colleghi che direttamente partono Vanno in campo e cercano di capire che cosa sta succedendo L'aria che respiriamo L'aria di Alessandria Il report dell'anno appena passato Seconda a livello di negatività Soltanto dopo Torino Lei ci ha fatto vedere un prospetto legato ai filtri E legati appunto anche alla cultura A volte del non applicare determinate regole Sì Queste misure in campo hanno bisogno di avere dei dati oggettivi Il valore della concentrazione delle polveri Rappresenta un dato oggettivo Però spesso il valore, il numero, il termine numerico Non ci ricorda nulla Quello che vedevamo prima sui filtri Era vedere come un filtro bianco Prima di essere esposto per 24 ore all'aria Cioè aspirare l'aria come se fossero i nostri polmoni Diventa poi nero, diventa grigio in estate È nero, è molto nero nel periodo invernale Perché questi sono i particolato che è disperso nell'atmosfera Noi non lo vediamo, lo vediamo poco I nostri polmoni lo raccolgono E quindi il far vedere direttamente questi valori Ci aiuta a capire qual è la situazione Ed è stata chiesta la perizia psichiatrica Per il cittadino tedesco Che il 19 ottobre del 2016 A Capane di Marcarolo In provincia di Alessandria Uccise la moglie Strangolandola perché a sua detta malata Terminale di cancro Secondo la sua avversione Marito e moglie Quella mattina avrebbero dovuto morire entrambi Ma qualcosa era andato storto Ci aggiorna Ketty Porcelli C'è forse un problema sul servizio? Andiamo avanti La sua parola contro la battaglia del ragionevole dubbio Per stabilire se Albert Gunther Schleicher Lindmayer È colpevole di omicidio volontario aggravato Per aver ucciso il 19 ottobre del 2016 La moglie Heidi Catarina Lindmayer Trovata morta in un bosco di Capane di Marcarolo In provincia di Alessandria Ieri l'uomo era presente nell'aula del tribunale Per il processo con rito abbreviato Davanti al GUP Tiziana Belgrano Al giudice ha continuato a dire I killed for love O ucciso per amore Avvalorando quella che è sempre stata la sua tesi Quella cioè di aver tolto la vita alla moglie Malata di un tumore terminale Dopo aver deciso con lei di farla finita entrambi Secondo il racconto dell'uomo Che oggi ha 53 anni E che in passato si era occupato di design I due malatti di cancro Erano partiti dalla baviera A bordo di una jeep E dopo aver girovagato tra la Francia e l'Italia Avevano deciso di fermarsi proprio a Capane di Marcarolo In mezzo al verde Una località che avevano conosciuto e amato In passato durante una vacanza Qui Lindmeier aveva strangolato la moglie E poi con lo stesso cavo usato per stringerle il collo Aveva tentato anche lui di uccidersi impiccandosi Ma il ramo scelto per il suo ultimo gesto Si era spezzato Quella mattina del 19 ottobre Era stato trovato in stato di shock Da alcuni boscaioli Mentre girovagava con in mano ancora quella corda Che avrebbe dovuto servire per raggiungere la moglie all'aldilà Una versione Una sola La sua Perché ad assistere alla scena Non c'era nessuno che possa contraddirlo O sostenerlo in questa tesi E così che il giudice Dopo aver ascoltato le conclusioni Del pubblico ministero Fabrizio Alessandria E del difensore L'avvocato Maurizio Chiarito Ha deciso un nuovo accertamento Vale a dire interpellare uno psichiatra Che possa stabilire se quella mattina Gunther Liedmeier Era in grado di intendere di volere L'incarico sarà conferito il prossimo 7 febbraio Solo allora si saprà il destino di quest'uomo Che a sua detta Ha ucciso per un amore infinito Che aveva l'unico scopo Di far terminare le sofferenze Sia a lei che a lui Di una malattia che non dava scampo Nonostante alla sua tesi Non abbia trovato riscontro Dalle autorità sanitarie tedesche interpellate Il pubblico ministero ha chiesto la condanna A 8 anni di reclusione Per omicidio volontario Aggravato dalla premeditazione Dallo stretto rapporto parentale Mentre il difensore ha chiesto La riqualificazione del reato A omicidio del consenziente Ed ora i trasporti Abbiamo parlato ieri Della situazione delle ferrovie Liguri Oggi ci spostiamo nel basso Piemonte Dai dati forniti da Trenitalia La situazione sembrerebbe tutta Rose e fiori Ma secondo l'associazione Pendolari Novesi I problemi sono ancora molti Ci racconta tutto Fabrizio Mattana Il 2017 è stato un anno tragico Per le ferrovie del nord-ovest Gravi disservizi si sono registrati Dal basso Piemonte Sulle tre direttrici Genova, Milano, Torino Poi la chiusura della linea da 9 a Tortona Ha causato gravi danni ai pendolari I dati emersi da un comunicato Dell'associazione Pendolari Novesi Denotano tuttavia anche alcuni punti positivi Intanto il coinvolgimento di nuovi associati Soprattutto giovani Il rinnovo della bacheca in stazione a Novi Ligure L'apertura di un nuovo sito internet Due treni ottenuti dalla regione Piemonte Da e per Torino E l'apertura di un nuovo canale di dialogo Con i vertici regionali Tuttavia i dati forniti dalle associazioni Non sono completamente in linea Con quelli forniti da Trenitalia Secondo la quale 9 treni regionali Su 10 arrivano puntuali in Piemonte Soltanto lo 0,3% delle corse È stato cancellato Per cause imputabili all'azienda Che registra inoltre Un aumento degli indici di gradimento del servizio Con un 89,8% di clienti soddisfatti La puntualità reale dei treni regionali Arrivati entro i 5 minuti dall'orario previsto È dell'89,3% E rispetto al novembre del 2016 Si registra un più 5,8% Per quanto riguarda la pulizia a bordo E un più 5,3% per la sicurezza Intanto l'altra sera in comune Novi Ligure e i Pendolari Hanno incontrato l'Agenzia Mobilità Della regione Piemonte Per discutere su il rincaro ingiustificato Degli abbonamenti sovrarigionali La valutazione economica Di una coppia di autobus diretti Fra Novi Ligure e Milano E ritorno Ecco quanto è stato concordato L'Associazione Pendolari Novesi A Soutenti Spediranno una comunicazione dettagliata All'Agenzia Mobilità Piemonte E a Regione Piemonte Per chi arriva il loro punto di vista Le parti si accorderanno Per una riunione a Torino Da tenersi a breve Anche se l'Agenzia non ha partecipato Alla conferenza Fraternitalia e Regioni Si è resa disponibile Ad aiutare l'Associazione A chi arriva le cause Dell'aumento tarifario Il costo di questo servizio Aggiuntivo di bus Potrebbe essere compreso Da una stima preliminare Fra 80.000 e 90.000 euro all'anno L'Agenzia Mobilità sostiene Che è necessaria la certezza Che tale servizio produca dei benefici A fronte dei costi L'Associazione Pendolari Novesi Effettuerà quindi un sondaggio Fra gli iscritti Per tentare di stimare Se questo servizio Possa incontrare Il gradimento dei pendolari In conclusione Se il 2017 A livello ferroviario È stato sicuramente Un anno negativo Dell'Associazione Prevedono Che anche il 2018 Non sarà tutto Rose e fiori Infatti Dell'ultima ora È la notizia Dell'introduzione Di un Frecciarossa Genova Milano Venezia Che percorrerebbe Però la linea storica Causando rallentamenti Regionali e suburbani Modificando le tracce orarie Anche se varieranno Di pochi minuti Che causeranno Ulteriori danni Alla vita del pendolare Pertanto le associazioni Chiedono un posticipo Dalla partenza Del Frecciarossa Da Genova Principe L'accessibilità Degli utenti Alle attuali condizioni Tarifarie È stato anche Richiesto un tavolo Di confronto Con Gianni Berrino Assessore ai trasporti Della regione Liguria Giovanni Totti Presidente Della regione Liguria E Orazio Iacono Amministratore delegato Di Trenitalia E ora parliamo Dei tradizionali Festeggiamenti Di Sant'Antonio Per l'azienda Ospedaliera Di Alessandria Che capitano In un momento Di grandi cambiamenti L'inaugurazione Della nuova terapia Intensiva E l'ambulatore Di oculistica Ma anche Il processo di fusione Tra Asla E azienda ospedaliera Spinto dal Consiglio Regionale del Piemonte Il direttore generale Dell'ospedale Giovanni Baraldi Ha detto però Che ci sono difficoltà A reperire figure Professionali Come anestesisti Pediatri Ortopedici Ma anche infermieri Il servizio Di Bedevinci Giorni di festa Per l'azienda ospedaliera Di Alessandria Che ha onorato Il suo patrono Sant'Antonio Insieme a tutti I dipendenti Dell'ospedale La tradizionale festa Di Sant'Antonio È quindi iniziata Con un saluto Di benvenuto Del direttore generale Giovanni Baraldi Che ha approfittato Dell'occasione Per ringraziare Tutti i dipendenti Tutti coloro Che lavorano All'interno Dell'azienda ospedaliera Ha approfittato Dell'occasione Anche per invitare A lavorare Con lo stesso impegno Per avviare Il nuovo ambulatorio Di oculistica E la nuova terapia intensiva Detto Anche se cambieranno Gli assetti istituzionali E le direzioni generali La funzione Dell'azienda Sarà sempre la stessa La tradizionale festa Di Sant'Antonio È poi continuata Con la Santa Messa Celebrata dal Vescovo Monsignor Guido Gallese E dopo la Messa Sono stati inaugurati Gli affreschi della Chiesa Con una benedizione Del Vescovo E il ringraziamento Alla Fondazione Cassa di Risparmio Di Torino Che ne ha consentito Il restauro In chiusura C'è stata la cerimonia Delle benemerenze Agli operatori Che hanno lasciato Il servizio Che è stata istituita Con apposita delibera Dalla direzione generale Per salutare coloro Che hanno passato La loro vita professionale All'interno Delle strutture ospedaliere Dando prova Di grande umanità E preparazione Sono quindi stati chiamati I 51 dipendenti Che hanno lasciato Il servizio Nel corso del 2017 Nove appuntamenti All'insegna della cultura Dell'accoglienza turistica Dal 30 gennaio Al 22 febbraio prossimi Tra Acquiterme Novi Ligure E Casale Monferrato Le organizza Confagricoltura Donna Alessandria Ce li racconta Alessandra Della C La cultura dell'accoglienza turistica Le zone della provincia Esattamente in tre città Importanti della provincia Per portare Per promuovere Una bella promozione Del nostro territorio Abbiamo un territorio Meraviglioso Le donne Lo sapete Sono bravi a fare reti Confagricoltura Anche una parte importante Con agriturist L'accoglienza è fatta in provincia di Alessandria Da tantissime belle strutture Medie, piccole, grandi Ma questo ciclo di incontri Vuole esattamente Dare un filo conduttore Alla promozione Del nostro bellissimo territorio Si parte il 30 gennaio Ci sono più appuntamenti Dislocati fra Novi Ligure Casale Monferrato E Acquiterme Gli appuntamenti sono rivolti Sia alle associate Che anche alle non associate Esatto Proprio perché le donne Sono abituate a lavorare In modo trasversale Per noi è importante E ringrazio in anticipo Tutte le persone Che vorranno partecipare Perché amano il territorio E lo vogliono promuovere In modo bello Vero Autentico Siamo ambiziose Vorremmo che diventasse Un appuntamento annuale Per confrontarci Per raccontarci Chissà magari il prossimo anno Che le presenze sono aumentate Perché avere turisti Sul nostro territorio Arricchisce tutto il territorio Molto bene È davvero tutto Ma non perdetevi Ora il meteo E la nostra pagina sportiva Perché domenica Riprende il campionato E l'Alessandria Torna in campo Al Moccagatta Contro la propria cenza Intanto questo pomeriggio Si è già allenato Con i compagni Il neoacquisto Luca Barlocco Grazie per essere stati con noi Buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.